nuovo video, io sono leopardo 2008 oggi, bella a tutti i ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono leopardo 2008 ripeto perché forse si era sentito male nella prima parte oggi siamo in un nuovo video su clash of clans intanto volevo cominciare facendo gli auguri a monicraft che ha raggiunto i 40 iscritti quando li ho raggiunti io lei non li ha fatti però auguri per i 40 e oltre niente, auguri, moni, iscrivetevi al suo canale che si chiama monicraft casomai vi lascio il link in descrizione avevo fatto un attacco che sono sceso in lega sterco che per chi non lo sapesse è la lega sterco, è la lega argento 3 sono sceso in questa lega sterco come vedete per fare gli attacchi per voi nella lega sterco ci sono dei municipi a livello 7 perché logicamente il muni al 9 mi può solo trovare il muni al 7, all'8 e le muni al 7, all'8 con le mura di legno o di pietra a livello 2, a livello 3 avevo già fatto un video con delle truppe poderose la registrazione, come tanto solito dico in tutti i miei video mobide di merda la registrazione si era stoppata perché i fraps erano troppo alti in bordello adesso vi farò vedere questo attacco che logicamente c'errei se non ci fosse quell'ash of cleanse questa modalità guardate le truppe intanto maghi al livello 5 un golem due draghi al 2 due pecca al 2 ok bye guardate che schifo di municipio a livello 8 che sembra un muni a livello 6 livello 7 dai concediamoglielo ho buttato prima dei maghi qui sul municipio e dei barbari dai un po' di roba grande roba poi ho attaccato da questo lato come principio butto un drago lì che è stato crepato subito anche da quel lato è stato crepato perché è stupido il drago che frate tutta ha buttato un po' di roba una cura completamente a caso sprecata comunque sono saltati di là ho fatto un po' di casino lì c'erano i maghi intanto qui sulla sinistra che attaccavano in basso c'erano le barbari in alto a destra che moriva e niente ragazzi scusate se l'agri ma tanto ormai non è più immobili è di merda guardate tutti e niente ragazzi poi più o meno qui un po' di oro me lo son preso comunque 60.000 tipo comunque qui l'attacco è un po' alla lente diciamo che vedete sono rimasti un po' di maghi in gole e gli arcieri vedete la scena del cri voi da questa posizione qui poi niente da qui lascio un perio un arciere stava colpendo questo po' qui un altro arciere stava colpendo qui dietro ai due mastini che poi vado i golemiti si vale miti mille punti per me Obama le sue medaglie davanti ho lasciato correre diciamo distruggono la tesla e poi crepa tutto ho smesso io video perché avrei potuto guadagnare un po' da questo estratore che c'era ancora il coso c'era ma niente se per questo video è tutto porterò di sicuro altri video in lega sterco ehm altri che facciamo 3 mi piace 3 mi piace ehm allora ragazzi entrate nel nostro clan seconda no non ho saludato a youtube non lo chiedo sulla globale perché sulla globale sono troie ehm noi ci vediamo nel prossimo attacchi sterco in lega sterco no dai attracchi in lega sterco eee 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 ciao a tutti ciao a tutti a 3 mi piace ci sarà un nuovo video stronzo eee eee eee